allora guarda in realtà la distruzione della scuola pubblica o meglio la l'arresto di un ciclo espansivo e che dura fino alla metà degli anni 80 e diciamo con i nuovi curricoli di quella che allora si chiamava scuola elementare oggi si porta a scuola primaria nuovi curricoli che lo ricordo prima che moratti e gelmini mettesse romano alla scuola di base avevano portato la scuola italiana ad essere dopo quella russa la seconda scuola primaria o elementare o di base nel mondo se si accettuano paesi ricchissimi o con popolazione scarsissima quindi con un rapporto mezzi popolazione spropositato tipo alcuni stati del canada singapore però l'italia era tra le prime due tre scuole del mondo poi è iniziato davvero una sorta di resa dei coppi perché è apparso palese che una scuola di massa quale era quella che era diventata la scuola italiana che una cosa recente io mi sono diplomato nell'ottanta nell'ottanta solo il 50 per cento di quelli che erano entrati nella scuola prendevano un diploma purché sia una scuola di massa richiedeva per poter funzionare una radicale riforma ulteriore delle proprie forme non poteva abbassarsi sul volontariato o sullo spontaneismo degli insegnanti e in realtà il primo attacco è stato è stata la riforma bassanini la riforma del pubblico impiego del del dello statuto giuridico dei pubblici impiegati quando siamo diventati tutti io allora non lo era ancora dipendenti pubblici con contratto di diritto privato attenzione un contratto di diritto pubblico ha il suo centro quindi la sua finalità principale e anche i criteri per cui al limite possono decidere se licenziarti nei casi più gravi nello scopo e chiamiamo l'istruzione didattica educazione chiamiamola come ci pare un contratto di diritto privato ha il suo centro in uno scambio si chiama sinallagma contrattuale tra fondi e ore questi sono i soldi che metto sul tavolo queste sono le prestazioni che io ti chiedo o come si dice in alcuni proverbi questi sono i pupazzi con questo devi fare il presepe dopodiché che quello che io ti chiedo sia o no adeguato a quello che dovrebbe fare la scuola non è il centro della questione io posso chiederti meno perché ti do meno è implicito il ricatto privato e cioè se vuoi fare di più ce lo metti tu di tuo altrimenti fai un presepe in cui i remaggi arrivano a piedi in cui c'è solo l'assino e non c'è il bue però questo vuol dire che giuridicamente la finalità della scuola non è quella scritta nella costituzione e parte tutto da lì e qui su questo mi fermo ma si potrebbe fare tutta una storia io l'ho fatta anche da qualche parte della degli aspetti giuridici e contrattuali degli insegnanti perché poi la scuola ha anche dei contratti nei quali sono scritte o non scritte cose ad esempio noi insegnanti di fatto abbiamo un contratto di lavoro che è di una decina d'anni fa nel frattempo sono successe alcune bazzecole tipo la didattica a distanza quindi sono stati integrate le nostre funzioni con una serie di aggiunte che però non vanno in un contratto organico detto come va detto stiamo svolgendo da almeno due anni delle prestazioni al limite del contratto e questo qualcosa può significare poi sono arrivate le riforme quella moratti quella gelmini adesso della moratti sembra quasi passata di moda però la riforma moratti ha minato la scuola media che era già il pilastro debole della scuola perché nel pilastro debole perché era quello più vecchio la scuola media unica che è stato fondamentale aveva senso in un'epoca nella quale si poteva pensare che con la licenza media potevi affrontare la vita poi il mondo è diventato molto più complesso ed è diventato patente che senza ulteriori strumenti tu non affronti un mondo così complesso quello che c'è prima e quello che c'è dopo sono stati innovati la scuola media richiedeva una innovazione e invece è stata minata alla base con tagli di ore insegnanti poi è toccata la scuola primaria chi ha dei figli con una certa con quattro cinque anni di età di età ha avuto dei figli che hanno fatto l'elementare prima della gelmini dei figli che l'hanno avuta dopo mi ricordo che l'idea base della gelmini era a quell'età cito a quell'età non serve un insegnante specializzato in italiano in matematica serve un sostituto della figura materna noi sappiamo che le che la capacità matematica è qualcosa che si forma entro l'ottavo anno di vita quindi la matematica che ci insegnano alle elementari è quella che ci porteremo dietro intesa come capacità di apprendimento quei danni noi li portiamo se li portiamo dietro per tutta la vita e poi la superiore però attenzione la moratti aveva già istituito la prima alternanza scuola lavoro quella di cui è morto lorenzo perché da un lato noi diciamo una cosa inesatta quando diciamo che lorenzo è morto di alternanza scuola lavoro perché ecco se non siamo precisi su questo ci si può facilmente rispondere ma non c'è più l'alternanza scuola lavoro adesso c'è il pcto e il pcto può anche significare che tu non vai a lavorare neanche per quelle 90 ore allora facciamo un passo indietro la prima alternanza scuola lavoro che è rimasta è un sistema integrato di istruzione lavoro che di fatto già dopo i 13 anni prevede che tu possa fare una scuola di mediata dove fai un pugno di ore per materia essenziale ma di fatto fai apprendistato era quello che faceva lorenzo cioè per capirci lorenzo era un ragazzo al quale è stato detto è inutile che tu vai a studiare tanto non sei bravo oppure alternale alternativamente tanto a cosa serve studiare vai a fare subito apprendistato così quando esci entri nel mondo del lavoro per cui se lorenzo fosse sopravvissuto a quell'ultimo giorno comunque avrebbe affrontato una vita con la metà del bagaglio necessario detto come va detto sarebbe rimasto vincolato a quelle poche cose specialistiche che gli hanno insegnato probabilmente ad esempio senza la capacità di interpretare correttamente un contratto di lavoro ricordo che don milani aveva detto una frase che è tuttora una stella polare scopo della scuola dovrebbe essere rendere lo studente in grado di comprendere il contratto nazionale di lavoro degli operai metallo meccanici che è una cosa complicata da capire i contratti attuali sono ancora più complicati sono ancora più pieni di clausole di non detti e così via le tipologie dei contratti lavoro sono molto più complicati però è altrettanto vero attenzione che se uno studente può fare 90 ore di pct o senza senza uscire da scuola soprattutto in questi ultimi due anni che si è fatto tutto a distanza è anche vero che il pct o permette al mondo del lavoro nel senso di aziende imprese feder manager piuttosto che eni di venire a fare formazione direttamente dentro la tua scuola che una cosa forse ancora più pericolosa che andare a fare apprendistato fuori perché ad esempio come fatto il mondo del lavoro te lo racconta appunto un manager di eni piuttosto che di era piuttosto che di feder manager e così via a tutto questo aggiungiamo tutto quello che è diventato il sistema di valutazione degli apprendimenti sistema di valutazione degli apprendimenti che condiziona la didattica perché gli apprendimenti vengono valutati in base a determinati presupposti astratti i benchmark che sono finalizzati all'immissione del mondo del nel mercato ma al tempo stesso i benchmark sono creati a partire dal mercato e sono fondamentalmente gli aspetti quantitativi tutto ciò che non è valutabili in termini quantitativi non viene valutato ma se non viene valutato di fatto non esiste quindi la capacità di relazione la capacità di pensiero lento la capacità di correggere i propri errori la capacità di una cosa banale la capacità di conservare le cosiddette competenze una volta uscite dalla scuola nel mondo della vita quindi quello che ti resta dopo due tre quattro anni noi al massimo abbiamo un calcolo dei crediti che lo studente acquisisce nel primo anno di università questo viene ancora valutato e attenzione quasi sempre questi dati non sono concordi con i dati con i voti presi all'esame perché sono due cose diverse l'esame così come i test invalsi certificano se fosse sono fatti bene ci sarebbe da discuterne quello che tu in questo momento sai sai in termini quantitativi non quello che sai fare con quello che ti è stato dato o con quello che ti è stato fatto quindi viene preformato un individuo e attenzione perché le competenze sono da un lato conoscenze e quelle diciamo che facciamo finta di poterle misurare sono capacità e lì il terreno comincia a farsi scivoloso e poi sono attitudini e sugli attitudini davvero il confine fra la scuola che entra in un ambito che è quello della coscienza privata e la scuola che si tiene in disparte diventa complicato chi è dentro la scuola ad esempio sa perfettamente che c'è una sorsa di latente razzismo nei confronti degli studenti introversi non si è non esiste il diritto di essere introversi lo studente deve essere estroverso deve avere molte relazioni palesi il che per l'inciso è un paradosso perché se io insegnante sto insegnando come faccio a sapere se lo studente ha molte dire ma non parla con nessuno ma se durante la lezione deve parlare con me come faccio io a sapere se parla uno con gli altri ma chiusa anche questa parentesi però attenzione queste sono le competenze attuali ma esiste una quarta categoria di competenze che è stata appena introdotta nella scuola con un o meglio è stata approvata una legge alla camera che passerà al senato che la introduce come possibilità e sono le competenze delle competenze caratteriali dove si presuppone che avere un certo carattere favorisca un certo tipo di apprendimento il che vuol dire che la scuola si arroga il diritto di preformare il carattere del discente in funzione di che cosa di quel famoso mondo del lavoro mondo del lavoro che il professor Mantegazza ci ha fatto un esempio ma il problema è che il suo interlocutore o gli ha mentito o è ignorante della propria stessa materia perché non è affatto vero che le aziende danno lavoro sulla base delle competenze che gli studenti hanno e questo attenzione non lo dice cioè lo dice ma non faccio riferimento poniamo marta fana o roberto ciccarelli sul manifesto questo lo dice l'ultimo rapporto istat nell'ultimo rapporto istat abbiamo quei dati che in un certo ambito conosciamo da tempo che dicono che il mondo del lavoro non vuole affatto gli studenti con certe competenze competenze che non c'è alcuna relazione tra avere o non avere certe competenze e avere o non avere un posto di lavoro quando si esce dalla scuola facciamo un passo avanti che non è vero che esistono dei lavori skill ed e dei lavori unskilled è una distinzione che è stata creata per poter pagare meno certi lavori punto per cui non esiste alcuna relazione tra scuola e mondo del lavoro posto che mai debba esistere vado a chiudere con due considerazioni la prima purtroppo noi tendiamo a interiorizzare un ragionamento che è quello della costruzione della casa a partire dal tetto dal cammino per scendere giù fino alle fondamente nel senso che noi dovremmo chiederci non se questa scuola serve o cosa bisogna fare perché questa scuola serve ma partire da una domanda di base dalle fondamente che scuola ci serve noi siamo in un'epoca che attraversa quattro crisi epocali quella climatica quella migratoria un essere umano su otto si sposta dal proprio paese nel mondo quella pandemica e quella economica perché ormai è palese a tutti che siamo dentro un ciclo economico che è iniziato almeno dalla primavera del 2001 nel 2008 si è reso palese ma a quel punto abbiamo capito che le crisi precedenti erano tutti i passaggi di un'unica crisi e indipendentemente dall'impatto della pandemia come si usciva da questa crisi non l'avevamo ancora capito allora noi dovremmo chiederci per affrontare questo interregno del quale non intravediamo l'orizzonte finale il che lo rende problematico di quale scuola avremmo bisogno e a quel punto chiedere tutte quelle risorse che servono per costruire quella scuola nel PNRR che noi di priorità alla scuola abbiamo analizzato anzi abbiamo analizzato le due versioni di Conte e le quattro di Draghi la prima delle quali di Draghi era in lingua inglese quella che ha votato la Camera la Camera ha votato un PNRR in lingua inglese e la quarta è quella che è stata elaborata dopo l'approvazione al Senato quella che abbiamo mandato al Senato non è quella approvata dal Parlamento non conta dire che i ritocchi sono di poco conto comunque ci sono stati non c'è nulla di tutto questo nel PNRR ci sono solo soldi che servono a finalizzare degli scivoli della scuola verso il mondo del lavoro la seconda considerazione che faccio che riguarda la scuola ma non soltanto la scuola è giustissimo sottolineare la profonda sofferenza che ha provocato la pandemia nel mondo adolescenziale nei nostri studenti noi insegnanti ci facciamo i conti ci sono studenti che non sono usciti dalla propria Camera anche fisicamente anche dopo la fine della data escono vengono a scuola poi ritornano a casa e si chiudono in camera in parte questi c'erano prima ma la sofferenza non l'ha inventata la pandemia la sofferenza esisteva prima e attenzione perché la sofferenza psichica per certi versi è un privilegio dell'Occidente ricco io ho avuto studenti i cui genitori sono ancora in Africa e questi studenti a un'età nella quale io andavo a giocare a pallone con i miei amichetti hanno attraversato il mare su una barca a 11-12 anni da soli io ho avuto uno studente che ha visto dei familiari a cui hanno sparato in faccia in Bosnia e altri vivi li ha lasciati a Sarajevo mentre la scuola raccoglie anche questo e dentro la scuola si impara che il mondo è sofferenza il che non vuol dire che bisogna soffrire il che vuol dire che la scuola deve anche porsi il problema di un mondo nel quale si deve imparare a reggere la sofferenza insieme perché fare il discorso della sofferenza limitata al Covid sembra quasi come il discorso del vaccino che è giustissimo che ci sia ma non è soltanto quello che risolve l'emergenza Covid è tutto quello dalla sanità a Italia alla scuola alla società eccetera di cui abbiamo bisogno noi abbiamo bisogno di molto di più che riportare la scuola alla semplice presenza e abbiamo bisogno di qualcosa in più perché abbiamo bisogno di insegnare i nostri studenti e anche a noi stessi perché anche a noi insegnanti è piaciuto in buona parte starsene chiusi in casa questo va detto perché avremmo dovuto incazzarci contro la DAV e non l'abbiamo fatto o l'abbiamo fatto solo in parte e quelli che l'hanno fatto non hanno trovato gli appoggi che sarebbe giusto avere che dà la sofferenza la sofferenza la si regge tutti quanti insieme oppure ciascuno individualmente la soffre senza possibilità di reggerla perché individualmente non la si regge allora chiediamoci come può essere fatta una scuola in questo orizzonte che non è un orizzonte del quale qualcuno può dire finisce fra uno, due, tre anni quindi dobbiamo considerarlo come condizione esistenziale chiudo qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti